In Grecia è ancora una volta la piazza, il megafono del malcontento. Lo sciopero indetto per oggi dai sindacati ha già fatto convergere nella capitale migliaia di lavoratori in collera. Chi protesta sa che l'annunciato taglio di 30.000 posti nel settore pubblico e la diminuzione del 20% dei salari non rimetterà i conti in ordine. Gli organizzatori si attendono una mobilitazione pari a quella del 2008 in piazza Sintagma. Normalmente scioperano quelli del settore pubblico, noi del settore privato lavoriamo sempre, ma questa volta no. Dobbiamo riprenderci in mano le nostre vite e difendere il nostro diritto al lavoro, altrimenti come andremo avanti? Chiusi ministeri, uffici comunali, scuole, università, fermi tutti i mezzi di trasporto, scioperano anche i controllori del traffico aereo, costringendo alla cancellazione di tutti i voli. Una risposta compatta dei lavoratori di ogni categoria, consapevoli che dopo la scure che si abbatterà sul settore pubblico non sarà finita. È stato annunciato l'intervento sulla contrattazione collettiva e l'abolizione del salario minimo garantito.